Attenzione centrale, persone armate fuori dal centro commerciale, inviate ausilio. Vi invio uno streaming video. Silenzio per tutti, abbiamo un allarme prioritario Mercurio App, attendete istruzioni. Attenzione volante 10 in via Umberto Quintavalle al centro commerciale. Un collega segnala persone sospette, armate, a bordo di una vettura. La vettura dovrebbe essere una bravo di colore grigio. Il collega è armato e attende il nostro ativo per procedere a controllo. Massima attenzione, indossate i giubbetti antiproiettili per tutti. Volante 10 ricevuto? Sì, 21, la volante 10 ha ricevuto. Ho già le immagini sul dispositivo. Sì, 21, la volante 10 ricevuto. La volante 10 ricevuto. Perku, la volante 10 ricevuto. Grazie a tutti.